E carissimi amici, veniamo a questo video molto importante in cui parleremo di nuovo della dottoressa Angioni, ormai ci siamo, si appressa l'udienza, questa tanto sentita udienza del 23 di dicembre. E allora la dottoressa Angioni ha parlato, ha rilasciato delle dichiarazioni, parliamo di Maria Angioni, una magistrata, una donna ancora abbastanza giovane, è del 26 aprile del 65, una sassarese, quindi una della Sardegna, oggi magistrato del lavoro a Sassari. Questa donna ha avuto l'onore e l'onere, soprattutto nelle prime fasi, di avere l'indagine, della sparizione di Denise. Gli sono stati attribuiti degli esori, certamente ne avrà fatti, ma quello che si vuol dire è che il coraggio non gli manca a questa donna. E oggi parla, la dottoressa Angioni dice e sottolinea cose molto importanti, prestate attenzione. Lei dice, il 23 dicembre non sarà un giorno qualunque, l'inchiesta è stata boicottata sin dall'inizio, con fuga di notizie. Tutti i sospettati sapevano di essere intercettati, questa era detta dal primo momento, che i sospettati già sapevano. Nessun controllo venne disposto sulle partenze, e queste le abbiamo sottolineate anche noi, né via mare, né via aereo, né caselli autostradali, né posti di blocco. Ho cercato di fare quelle che ho potuto, quando sono arrivata io. Avrò fatto qualche esore, non dico che sono bravissima, ma le mancanze sono state di tutti. Ho dedicato gran parte delle mie giornate a studiare gli atti del processo e delle indagini, non per difendere me stessa, ma per capire se c'è qualcosa di utile per trovare Denise. Molte cose sono state trascurate, come quelle della Ford Fiesta, su cui la dottoressa Incioni nel primo momento aveva posto l'attenzione. quella Ford Fiesta che sfrecciava per manzara poco dopo il sapimento. E la cosa strana è che, fra le vetture controllate, all'epoca, veniva rilevata quella famosa impronta, voi sapete, di mano di bambino o bambina, vicino a un vetro. Isolata, nel 2005, questa famosa impronta. Ma vedete che cosa strana? Che gli esami del DNA vengono fatti solo nel 2018. Possibile? Dopo tanti anni? E quindi i rischi di mestina non si elevano, non riescono a silevare tracce di DNA, ma visti gli anni trascorsi, essi sottolineano, probabilmente vi sarà finito materiale biologico che non permette più la silevazione del DNA. questo dispiace. Ma Lancioni continua dicendo che nell'ipotesi delle imputazioni che potrebbero essere fatte nei confronti della principale indagata, Anna Corona, non solo vi potrebbe essere la partecipazione o gestione, insomma, del sequestro di persona, ma addirittura lei aveva ipotizzato anche l'omicidio. Ebbene sì, l'omicidio in relazione a cosa? In relazione a una intercettazione mai confermata del tutto, ma oggette di perizie che però non hanno ancora detto nulla di definitivo in cui praticamente se vi ricordate Jessica Pulizzi parlando con la sorella Alice dice la mamma l'ha ammazzata a Denise e allora questa intercettazione se ben interpretata in qualche modo da una superperizia potrebbe anche questa fare la differenza. A tal proposito interviene poi anche l'avvocato della dottoressa Angione, l'avvocato Stefano Pellegrino che dichiara testualmente si cercherà attraverso una compiuta verifica del processo madre, cioè quello di Jessica, di meglio ancorare i ricordi dell'Angione al fine di giustificare queste discrasie tra i documenti presenti, cioè l'eventuale discrasia tra i documenti presenti e i ricordi della stessa dottoressa Angione. Questa affermazione può far intendere che la verifica che la stessa Angione sta facendo è sulla integrità della documentazione stessa, cioè che non vi sia stata una manipolazione anche della documentazione che sta a fascicolo. Quindi, perciò è importante questa udienza del 23 dicembre perché dopo l'udienza del 23 dicembre molto probabilmente la dottoressa Angione sarà sentita anche dalla commissione di inchiesta parlamentare che per una ragione di opportunità non la può sentire adesso, ma la sentirà dopo. E dopo, credo che, dopo di ciò, e quindi solo a gennaio, credo ci sia il pronunciamento del GIP Sara Quittino sulla richiesta di archiviazione per Anna Corone, eccetera. Perché? Perché il GIP Sara Quittino sta valutando per vedere se emergono ulteriori elementi e ulteriori elementi che potranno venire alla luce proprio dal 23 dicembre in poi perché non sarà un'audienza qualunque. La dottoressa Angione non sta lì solo per difendere se stessa e per dire è vero o non è vero il mio ricordo. Non sta lì per quello. Non avrebbe perso tanto tempo. Infatti lei dice testualmente ancora Angione dice una cosa molto importante. Dice per me sarebbe stato più facile, più comodo in riferimento ai due fatti contestati che io avessi formalizzato che mi ero semplicemente sbagliata e quindi sarebbe stato archiviato tutto. Ma io ho voluto fortemente il processo. Lo devo a me stessa e a tante persone che hanno il diritto alla giustizia e alla verità. fui trasferita e buttarono su di me accuse di inefficienze quelle inefficienze che io avevo combattuto. ho studiato e valutato gli atti e stralci che io stesso all'epoca disposi per esigenze di particolare segretezza e in questi atti qualcosa non è stato fatto bene e ho già depositato una denuncia penale per falsità materiale in atto pubblico. Questa è una cosa molto importante perché lei pensa che ci sia qualche falsificazione in relazione ai procedimenti di cui lei aveva dato disposizione e che evidentemente sono stati manomessi. Questo lo dice lei e ne ha fatto oggetto di denuncia penale per falsità materiale in atto pubblico. Conclude dicendo ora parlerò con dati alla mano non con interagatori al buio non ho portato avanti questa storia per perdere tempo ma per ristabilire verità utili. Io non ho certo paura. Quindi è qualcosa di molto importante. Questa donna che è stata pure volte criticata pura a questo grado è stata detta che magari non era troppo lucida che diceva cose senza senso. io credo che al di là di alcune uscite un po' estemporane però lei ne sappia molto non fosse altro che per aver tenuto in mano le indagini in un momento molto molto delicato. La sua tesi è sempre stata quella del rapimento con la bambina che poi viene trasferita probabilmente in Tunisia o comunque trasferita fuori dalla Sicilia ed è sempre stato convinto che l'umanità si giustifica perché ci siano di mezzo dei grossi interessi perché i responsabili rischiano almeno trent'anni o rischiano chissà le sgastolo e allora ecco che la cosa è delicata in questo senso qua. È vero diciamo lei ha preso anche alcuni abbagli però bisogna anche darle merito che ha sempre sostenuto che lei buttava anche dei sassi dei sassolini come diceva nello stagno per smuovere le acque delle acque sono state mosse quindi adesso mancano pochissimi giorni vedremo se quest'acqua che è stata spostata o che è stata spostata è soltanto uno stagno o è acqua di un fiume o è acqua di un mare agitato o sarà addirittura uno tsunami non si sa vedremo si parla anche di interferenze politiche qualcuno ha dichiarato chissà i grossi politici ecco io onestamente non credo che all'epoca questa sparizione di una bambina possa aver coinvolto né la grande delinquenza organizzata mafiosa eccetera io non credo a questi livelli a queste bassezze e nemmeno posso credere che i politici di livello nazionale possano avere avuto qualche interesse che poi successivamente ci siano stati delle pressioni da parte di una micro mini delinquenza locale con una delinquenza un po' più grande o con qualche aggancio politico può essere che può essere che la cosa sia succedanea però però io io penso soltanto che è passato troppo tempo e che dobbiamo vedere adesso la dottoressa in giovani cosa dice ora il 20 lei si è studiata tutto ve lo posso garantire e quello che dirà il 23 non sarà qualcosa di banale il GIP sarà quittino sospettando questo perché quello che dirà la dottoressa Ancioni non è ciò che dice una donna qualunque lei ha tenuto in mano l'indagine in un momento delicato ha sempre denunciato la mancanza di collaborazione l'inquinamento delle delle prove e ha denunciato tante di quelle cose che non andavano bene adesso può darsi a distanza di tempo rivedendo tutti gli atti potrà dire molto di più c'è una commissione di inchiesta parlamentare c'è un GIP che si deve pronunciare e vi ho voluto rendicontare oggi di quelle che sono le ultime dichiarazioni della dottoressa Ancioni e io sono sempre moderatamente fiducioso che tra pochi giorni qualcosa si smuoverà e quei famosi sassolini che lei dice di buttare nello stagno potrebbero diventare veramente uno tsunami io lo spero da questo punto di vista vi saluto per il momento grazie sempre della vostra passione del vostro affetto con il quale mi seguite vi abbraccio a tutti quanti e spero di poter darvi presto delle grosse e belle novità un abbraccio a tutti quanti voi a tutti quanti voi grazie a tutti grazie a tutti